Loris Sportello, capo area del Lopitergino Mottense della banca di credito cooperativo Pordenonese Monsile. Ecco, signor Loris, qual è il valore aggiunto di questo nuovo sportello di Ormelle aperto un paio di mesi fa all'interno di un territorio già presente con altri 5 sportelli? Allora, fondamentalmente l'apertura di Ormelle ci consente di presidiare il territorio diciamo a nord dell'Opitergino Mottense, quindi con l'obiettivo di presidio appunto del comune di Ormelle e quello di San Polo e di Cimadolmo. Quindi diciamo è il completamento un po' dell'area Opitergino Mottense, si aggiunge all'apertura fatta l'anno scorso della filiale di Motta di Livenza e quindi si crea un asse di sviluppo per noi importante che è quello che va da Motta, passa per Oderzo e arriva appunto ad Ormelle con le appendici di San Polo e Cimadolmo. Ecco, qual è la banca di credito cooperativo? Pordenonese Monsile è una delle banche che ha scelto di rimanere sul territorio. Lei lo sa quante richieste per le parti sociali, sportive eccetera ha le banche per aiutare un po' le associazioni. Questa è un po' una funzione che voi fate. Ecco, in questo senso come vi ponete poi in questo territorio? Allora, in questo territorio abbiamo già cominciato ad attivare alcuni contatti con i principali promotori di iniziative, soprattutto del sociale, ma non solo, anche nell'ambito sportivo che rappresenta una fetta importante dell'alveo del volontariato e stiamo prendendo contatto appunto per far recepire il messaggio che ci siamo come banca, siamo la banca del territorio per il territorio, quindi la vicinanza significa anche siamo a servizio di questo territorio. Mauro Antonello, capopolo commerciale Oves della banca di credito cooperativo Pordenonese Monsile. Ecco, lei raccoglie la parte veneta dei sportelli di questa banca. Come sta andando in quest'area alla banca di credito cooperativo che è in fase di espansione dopo la unificazione? Allora, come sta andando? Dobbiamo sicuramente rapportarlo al periodo che stiamo vivendo, che è un periodo che stiamo andando a braccetto purtroppo un po' tutti con il Covid. Quindi nonostante tutto, diciamo che da marzo, nel periodo in cui abbiamo fatto la fusione, la banca si è assestata, abbiamo dato l'opportunità alle aziende e ai soci di sentirsi vicine, infatti abbiamo dato l'opportunità di sospendere anche gli impegni che avevano con la banca e chiaramente quindi il ruolo di banca di territorio lo stiamo cercando di interpretarlo al meglio, anche perché banca di territorio io lo interpreto come banca sul territorio, nel senso che noi per primi tutti i dipendenti abitiamo, siamo residenti, quindi proveniamo da questo territorio e in base a questo quindi mai come noi c'è la possibilità di capire e interpretare le esigenze della clientela. Quindi stiamo cercando in tutti i modi di cercare di interpretare le esigenze sia delle aziende che delle famiglie in modo da poter dare delle risposte veloci perché in questo momento qua tutti hanno bisogno di essere supportati e la forza e il successo della banca non può che passare attraverso il successo di tutto il territorio e di sconfiggere anche questo purtroppo virus che abbiamo in questo momento.